Adesso tolti tutti i pensieri filosofici e più di consolamento che ho fatto già in un video precedente, che linkano a questo, andiamo un po' più a vedere in modo razionale perché è quello che bisogna fare, questo momento di crisi e perché ci sono state, quali sono le ragioni principali per cui stiamo vedendo questa situazione qui, che magari ci può aiutare a valutare meglio la situazione, ovviamente sapete che consigli finanziari non li do e sapete anche com'è il mio atteggiamento, il mio posizionamento in questa fase di mercato. Beh, innanzitutto mi scuso per l'illuminazione e per la luce ma il tempo oggi è tremendo qui a Roma, sta piovendo quindi è buio di per sé l'illuminazione è quella che è e faccio questo video perché abbiamo visto un altro drop sul mercato, sapete che ogni lunedì faccio reso conto su quella che è la situazione generale, quindi a livello di notizie, a livello di mercato, oggi però per non allungare troppo il video che poi arriverà faccio un video, un'analisi a caldo su diversi aspetti fondamentali per realizzare meglio quella che è la situazione e quello che sta succedendo. Allora, abbiamo visto e già hanno parlato più volte di come la goccia che abbia fatto traboccare questo vaso, quindi abbia scosso le fondamenta di questa volatilità quasi nulla e questa stabilità di mercato, sia stato l'art for che è avvenuto su Bitcoin Cash e tutto ciò che ha portato quella tensione, quella guerra fredda come loro rinominata. A seguito di questo abbiamo poi un intreccio di altre motivazioni e di altri valori fondamentali che dobbiamo andare a analizzare. La caduta in particolare di questi giorni è anche dovuta al fatto che in molti ci aspettavamo una ripresa, una crescita del mercato soprattutto per il fine dell'anno, anche portata dall'arrivo di piattaforme importanti o l'approvazione di ETF entro l'anno, cosa che comunque abbiamo visto che era molto improbabile e probabilmente arriverà, si arriverà appunto verso febbraio, ma soprattutto l'arrivo di questa piattaforma BACT, direttamente dall'ICE, quindi dalla società che controlla lo stock exchange, New York Stock Exchange, e che quindi aveva portato una porta d'ingresso per gli investitori istituzionali. Ecco, si aspettava il 12 dicembre, c'è stato un rinvio ufficiale almeno al 24 gennaio. Quindi questo dilungare il tempo ha portato ovviamente una depressione psicologica che ha portato un ulteriore sell off e ha contribuito al panic sell. Quindi questo è un altro aspetto che va ad annotare. Farò un'analisi veramente razionale, non sto mettendo troppo in gioco come la penso io, anche perché non so se si può vedere, ma in realtà io sono abbastanza sereno perché appunto poi ne parliamo magari nel finale. Altro punto fondamentale che sono andato a segnarmi è quello dell'aspetto legato anche al market tradizionale, quindi al stock market, che soprattutto nel campo quindi tecnologico come Nasdaq ad esempio, sta andando tutto giù da un po' di tempo. Questo non è legato solo al fatto che effettivamente era un mercato che si era gonfiato anche troppo, ma anche a un aspetto più macroeconomico. Ora non sono un esperto ovviamente, però un'analisi facile da leggere è quella che effettivamente parecchi investitori stanno togliendo della liquidità dagli investimenti, non solo in campo cripto ma anche in campo di azionario, quindi nella borsa tradizionale, perché effettivamente è aumentato il tasso di interesse da parte delle banche, specialmente dalle banche americane, che comunque hanno innalzato i tassi di interesse e quindi c'è meno liquidità, la liquidità viene tolta dai vari investimenti. Gli investimenti sono sempre di solito un quantitativo monetario che chiunque ha in più, se c'è bisogno, una necessità di liquidità, si prende comunque dagli investimenti. Quindi c'è questo fattore importante, quindi terzo fattore. Il quarto, e già ne parlai anche di questo, c'è il fatto che presi da questa sell-off generale, questo Panic Sell, noi abbiamo visto il 2017 un gonfiarsi di quantitativi di ICO, che sono arrivati come raccolta fondi a crescere tantissimo anche fino all'inizio, la prima metà del 2018, dove è esploso ancora più che nel 2017 a livello di entrate nei vari progetti in ICO. Tutti questi fondi raccolti, non stai raccolti principalmente in Ethereum ma in cripto in generale, adesso che il mercato sta scendendo, ovviamente queste società, queste aziende, per sviluppare i prodotti appunto per cui hanno raccolto, devono, hanno necessità di una liquidità in non cripto e quindi vendono ora invece che detenere magari quello che hanno raccolto in cryptocurrency perché hanno paura di un ulteriore calo e non potrebbero poi in quel caso supportare le varie spese, i vari costi di sviluppo che hanno. Quindi c'è anche questo aspetto, abbiamo accumulato tantissimo in cripto durante l'ICO, adesso l'ICO stanno vendendo e stanno accumulando poco perché effettivamente non si raccoglie più. Quindi è un altro aspetto che si aggiunge. Sto facendo un elenco per farvi capire quante cose tutte insieme si sono andate ad accumulare e questi secondo me sono effettivamente poi i fattori principali che dobbiamo andare a tenere a mente di questo ribasso del mercato, che poi ovviamente subisce delle manipolazioni aggiuntive e ci sono anche altre motivazioni poi magari nascoste che non possiamo leggere. Però questo è un insieme di variabili che va a fare un certo andamento. Adesso voglio fare un'analisi sulle cose che stanno succedendo e che, al mio modo di vedere, sono invece possibilmente una lettura positiva sul discorso. Allora, innanzitutto abbiamo una settimana al prossimo aggiustamento della difficoltà sul Bitcoin stesso. Cosa vuol dire? Che tra una settimana la difficoltà andrà di nuovo a ricalibrarsi per la risoluzione dei blocchi e, a quanto vediamo ora, la difficoltà sarà più bassa del circa il 7-8%, quindi sarà più facile minare Bitcoin. In questo caso vuol dire che i miners andranno a minare con una difficoltà minore. Ci vorrà meno hardware, meno potenza computazionale per poter ottenere Bitcoin. E questa forse è una manovra che, appunto, dobbiamo leggere anche nelle varie variabili. Magari la manovra di far abbassare il prezzo fino a un certo punto è anche stata fatta dai grandi players per ripulire un po' anche quel settore e fare in modo che torni ad essere profittevole un certo settore che è tutto legato ad un'industria un pochino più tradizionale, quella hardware. C'è quell'aspetto che va anche ad entrare ed è importante perché ultimamente, soprattutto negli ultimi mesi, soprattutto nel 2018 in realtà, minare non era più così profittevole e quelli sono comunque aziende che hanno un loro business da dover tutelare. Quindi quel discorso è anche importante, secondo me si intreccia. Però appunto il prossimo aggiustamento da questo punto di vista avviene tra sette giorni. Quindi probabilmente vedremo qualcosa cambiare da qui a una settimana, dieci giorni, secondo me. Non è detto che sia un positivo, eh? Poi abbiamo altri due aspetti che voglio analizzare che secondo me sono anche positivi, anzi tre aspetti che sono positivi. Quindi vi ho parlato di quattro ragioni principali per cui abbiamo visto questo throw off e vediamo quindi quattro aspetti che si stanno verificando che invece potrebbe avere un risvolto positivo. Quindi il primo è questo qui che vi ho detto riguardo alla nuova ricalibrazione sulla difficoltà. Il secondo è che secondo me abbiamo visto oggi come è sceso su tutti i 4.000 dollari il BTC e secondo me 3.000 dollari è un bel supporto psicologico. Ci stiamo settando verso quell'idea. Parecchi pensano che quello è il prezzo che si andrà a raggiungere. E spesso e volentieri quando c'è una, diciamo, quando un supporto diventa a livello psicologico anche adottato un po' da tutti, effettivamente poi lo diventa. Ovviamente non è un'analisi tecnica questa, è solo un'idea che vi sto condividendo. Però non è detto appunto, in realtà la rottura di quel supporto si porterebbe a un prezzo ulteriormente più basso. Quindi di questo non voglio approfondire più tanto. Comunque io personalmente in testa mi hanno settato più o meno quei 3.000 dollari come fondo. Vedremo. Insomma qua veramente non sapete che non possiamo prevedere nulla. Però c'è l'aspetto importante che invece è legato a chi sta vendendo in questo caso, legato a un panic sell. Cioè chi sta veramente preso dal panico, ha paura di perdere tutto, che vada tutto a zero. E perché? Perché le persone che stanno facendo così evidentemente non hanno mai creduto fino in fondo al valore tecnologico che c'è nel sottostante. Quindi se hanno veramente, se si ha veramente paura che questo possa andare a zero, vuol dire che non si vede veramente il valore. Perché se voi vedete un valore concreto sapete che non può andare a zero. È qui che c'è la differenza vera. Quindi tutti coloro che hanno venduto per panico pensando che possa andare a zero, beh, pian piano stanno finendo. Cioè quelle persone lì stanno comunque andando a risaurirsi. Vedremo quanto sangue deve ancora scendere per strada, prima di vedere che tutte queste persone siano finite. In quel caso si sarà veramente toccato il fondo, in quel caso si tornerà su. E poi c'è un aspetto che è quello più bello, che è quello dell'adozione reale. Ossia l'adozione non da investitori e speculatori, dove abbiamo visto nel 2017 appunto Wen Lambo, tutti che parlavano di To The Moon, Lambo. In questo caso invece abbiamo visto un'adozione continua da chi è interessato dal punto di vista aziendale. Quindi una crescita dell'industria a contorno di questa tecnologia, di questo sottostante. E questa adozione sta comunque crescendo. Quindi dobbiamo vedere, e ci prospettiamo appunto per il 2019, una crescita ancora maggiore da questo punto di vista, perché quello porta all'utilizzo vero del sottostante. E quella è la crescita, quella che ci piace vedere e che dovremmo ricordarci. E quella che dà comunque un, poi avvalora quello che è un utilizzo reale. Ecco, quindi quattro situazioni che stanno avvenendo e che possono intrecciarsi per darci un'idea del perché stiamo calando. Quattro ragioni che invece ci possono dare un'idea del perché forse questo mercato comunque ha quasi raggiunto il suo esaurimento dal punto di vista di potenza di vendita, da un certo punto di vista. Ho voluto fare questo video perché oggi è una giornata particolare, ho visto che c'è parecchia tensione e parecchia paura. Magari qui torniamo un attimo lucidi e razionali e voglio darvi questi spunti fondamentali, ecco. Però vi ricordo l'appuntamento appunto per le notizie concrete, l'analisi delle notizie, l'analisi concreta sui numeri del mercato. Ogni lunedì in particolare ci vediamo. Domani lunedì 26 farò un video in Premiere, penso di riprogrammarlo per le 18 così abbiamo la possibilità anche di commentare insieme in chat. Se vi è piaciuto questo video poi lasciatevi un like e se non siete ancora iscritti al canale vi consiglio di farlo perché io comunque rimarrò qui, non abbandono la nave adesso che la situazione è difficile, anzi adesso mi fa ancora più piacere dare supporto alle persone che hanno cominciato a credere in questo settore. Vi ringrazio e ci vediamo o domani o comunque al prossimo video. Ciao a tutti. Grazie.